Buongiorno sempre dal canale di Luigi, ci troviamo ancora ad Antrodoco, più precisamente a Borgovelino che è la sua frazione immediatamente adiecente. Sullo sfondo sempre del Monteggiano ammiriamo questa chiesa eccezionale, Santa Maria Extramenia, cioè Santa Maria fuori le mura, questa chiesa antichissima, eretta nel V secolo d.C., che poi è stata naturalmente nel tempo restaurata, riedificata, anzi prima ancora di questa chiesa esisteva un tempio romano dedicato alla Dea Diana. Come vedete si trova in una posizione piuttosto bassa anche rispetto alla strada che sta dietro, lì c'è anche il cimitero, chiesa davvero splendida da visitare, anche se adesso vedo che è tutto chiuso ma ci saranno sicuramente momenti in cui si potrà vederla meglio dentro. Vediamo un attimo allora tutta la zona per poter ammirare anche le parti laterali della chiesa. vediamo che c'è anche un battistero a pianta ottogonale, quindi sicuramente un complesso monumentale importante che ci ricorda quasi il campo dei miracoli a Pisa, diciamo in piccolo però comunque ce lo ricorda, ce lo ricorda. Vediamo che bella strada che va comunque verso Antrodoco, sullo sfondo c'è Antrodoco e queste sono le montagne circostanti, questo viale con questi platani diciamo potati alla meno peggio dagli addetti del comune ma non ho mai trovato un comune che fosse in grado di potare le piante in maniera adeguata. Ecco, vediamo la facciata laterale della chiesa, il suo campanile che svetta, è sicuramente un posto molto bello, anche abbastanza curato, devo dire questo prato, anche se lì in fondo vedo dei rovi che io personalmente andrei a eliminare, ad educare, a ridurre. E quindi di nuovo da questo posto, Antrodoco, Borgovelino, vi saluto, ciao!